Good morning Berlin, ci sarebbe altre cose da dire, oggi è domenica, non mi si scarica il video quindi devo partire velocissimo, sperando che lo faccio veloce sarebbe da dire che lo faccio negli altri video domani dopo domani allora, qui Jules Verne usa tutto un discorso che ha spiegato tutto come usa proprio le metafori, i nomi, l'anagramma, tutto e ve lo spiego in un altro video adesso il gioco dell'oca innanzitutto perché Jules Verne si è servito del gioco dell'oca? un gioco come un altro? un trastullo come pensano in genere i suoi biografi? no, egli conosceva alla perfezione il significato sacro di tale gioco ho mostrato altrove l'importanza di questo animale negli antichi miti il gioco sarebbe stato inventato dagli egizi o piuttosto dai troiani, detentori della tradizione pelasgica esaminiamone un po' con le regole sull'aspirare del tracciato si incontra un'oca ogni 9 caselle il percorso è composto da 7 volte 9 caselle a questo gioco potrebbe essere applicate tutte le risorse della cabala numerica alcune caselle possiedono particolarità degne di nota oltre alla foresteria che accoglie il pellegrino, il ponte simbolo del passaggio di prigioni costruite dai nostri desideri materiali il labirinto, i labirinti vengono talvolta chiamati muri di troia che ci ricorda Teseo e il minotauro dobbiamo esaminare in particolare il pozzo e il teschio presenti sul percorso che alludono alla vita e alla vita dopo la morte il pozzo si trova a metà del tracciato poiché comunica con l'interno della terra e al contempo la verità che può scaturire porta la conoscenza alla divinità e il suo asse si prolunga idealmente verso il cielo e si immerge nel seno della terra la morte occupa invece la 58esima casella 5 più 8 uguale 13 è il giocatore che vi finisce tenuto a tornare al punto di partenza per ricominciare il viaggio così colui che non ha saputo rinascere nello spirito prima della morte deve reincarnarsi e cominciare una nuova vita terrena chi invece ha saputo seguire la propria anima passa oltre la morte che solo 5 caselle separano dalla fine del viaggio rappresentata dall'immortalità ora il 5 è precisamente la cifra della realizzazione umana e del compimento cara ai pitagorici e ai catari come a Leonardo da Vinci inoltre nel gioco le hoche sono in totale 14 numeri pure rappresentano l'immortalità e il passaggio al di là una più del fatidico 3 evitiamo di prendere questi giochi per semplici trastulli ciò che sono divenuti perché non abbiamo più occhi per vedere né orecchie per intendere l'oca come la via lattea porta alla morte ma alla morte sconfitta alla resurrezione spirituale proprio a tale significato che Jules Verne allude per tutto il romanzo la ragione principale per cui gli ha scelto il nobile gioco più o meno ritoccato dai greci e pensiamo all'origine troiana rivendicata secondo alcune leggende dai re Merovini ci possiamo ben comprendere perché uno degli eroi del testamento di uno stravagante si chiama Max Real, vero, asse, ax, regale egli risulterà in certo modo vincente in questa avventura perché vi troverà l'amore quando allo stato che funge da Oca l'Illinois possiamo non solo trovarlo nel suo nome l'assonanza finale OI che significa appunto Oca in francese si dice OIE ma esso rappresenta l'anagramma di Ilyon Lys vale a dire del Lys Giglio Regale Giglio Regale di Troia Ilyon ipotesi gratuita? Certamente no vedremo a proposito di Ren le Chateau che tale legame non è affatto casuale in quest'opera Jules Verne ha giocato molto sulle parole ad esempio il capo di una tribù di indiani, il seminole, si chiamava Osiela ad indicare che lo Ie sa là qui si trova l'oca ma si è servito anche del simbolismo è notevole che la cinquantottesima casella legata alla morte si è rappresentata dallo stato della California o più occidentale degli stati americani nell'antichità l'occidente era considerato come la terra dei morti accade sempre che i sei eroi di questa strana storia siano battuti da un settimo concorrente altrettanto strano xkz, ossia 6 più 1 uguale 7 il numero di base che con il 9 permette di ottenere le 63 caselle che rappresentano la somma costante delle due facce opposte di un dado il vincitore non è altri che colui che fu all'origine del gioco che tutti credevano morto mentre Hipperborn come un novello Lazzaro uscito dalla tomba avendo deciso con folle eccentricità di affidare tutta la sua fortuna al caso il caso gliele rende in pieno la tomba del cimitero di Oaxwood il cui nome è Bosco di Querce riveste un significato sacro non conteneva scheletri mentre al contrario gli altri concorrenti erano proprio inciampati in un osso il vincitore avendo accettato di essere spogliato di ogni bene dalla provvidenza aveva guadagnato l'immortalità tengo però a sottolineare che questo romanzo particolarmente ricco contiene ben altri elementi ve l'ho detto poi li continuo lunghi e seri per adesso va bene così ma se capirai se ricercherai fino in fondo se non sono gigli sono pur sempre figli vittime di questo mondo sui rei per amicare